Prosegue l'arrivo dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico, in fuga dalla invasione russa. In tanti stanno arrivando anche nella nostra città, nella città di Pesaro, che si sta strutturando con la Caritas di Ocesana, con la disponibilità delle famiglie e soprattutto anche con l'azione delle parrocchie. Quella di Villa Fastigi è stata la prima ad aprire le sue porte all'accoglienza. Oggi ci troviamo proprio all'esterno della casa parrocchiale, dove Don Enrico Giorgini ci spiega come è strutturato il servizio di accoglienza. Non è stata la prima parrocchia a essere disponibile, perché altre parrocchie si sono rese disponibili. Diciamo che la nostra parrocchia era quella che logisticamente era più facilitata con vicinanza alle istituzioni, quindi questura, prefettura, comune e quant'altro, e avesse degli grandi spazi. Noi abbiamo la fortuna di avere una grande casa parrocchiale e anche una struttura grande di oratorio. Noi come funzioniamo? Funzioniamo come hotspot, quindi come accoglienza veloce. Quindi vengono mandati da noi le persone del comune, dal comune, servizi sociali, emergenza freddo, che è stato attivato proprio per questa emergenza ucraina. Vengono qui, noi li aiutiamo per i documenti, per la scheda sanitaria e quant'altro. E poi il comune li ridestina in casa, alloggi che trovano nei CAS, che trovano chi hanno trovato per l'ospitalità più lunga. Quante persone ospitate al momento? In questo momento sono tre famiglie, tre mamme e minori, sono nove persone in tutto e già è passata una famiglia che è ripartita, ecco siamo un po' in divenire sempre. Abbiamo, oltre alle persone che già ospitiamo, abbiamo ancora quattro posti, diciamo, in primo arrivo. Ecco, spiego un attimo, nel senso che appena arrivano facciamo un tampone, ma le lasciamo alcune ore, ecco, diciamo in isolamento, proprio per la sicurezza di tutti, sia loro che dei volontari, noi di casa. E poi vengono spostati nei posti o qui in casa o in oratorio, negli altri posti che abbiamo preparato. Tre famiglie, donne, mamme, nonne e bambini, minori tra i 4 e i 17 anni, che hanno bisogno non solo di un tetto sulla testa, ma anche di un'azione caritatevole. In tal senso la parrocchia non è sola, c'è una forte azione della Caritas, c'è una forte azione anche della comunità di Villa Fastigi, dei volontari che stanno dando una grossa mano al supporto, all'integrazione di queste persone, compresi i bambini che stanno recapitando tanti disegni e messaggi di benvenuto ai loro coetanei ucraini. Noi siamo partiti con questo progetto non solo come parrocchia, ma come tutto il quartiere di Villa Fastigi, con il quartiere stesso, le associazioni e il nostro motto iniziale è stato il bene va fatto bene. E quindi sia ospitarli, quindi accoglierli qui in casa, ma creare una rete di relazioni con tutte le associazioni che ci sono sul territorio e veramente farli sentire a casa, farli trovare un po' di pace dopo quella realtà di guerra, di terrore che hanno vissuto e che ancora purtroppo portano nel cuore. Quindi ecco questa umanità, questa umanità che abbiamo bisogno di dare loro. Quindi oltre un letto anche relazioni, umanità, amicizia e quant'altro. Ucraini che stanno cercando anche l'integrazione, c'è chi si sta sforzando di studiare italiano, i primi rudimenti per provare a essere coinvolti nella comunità in cui si trovano. Oppure c'è Roman, 17 anni, che giocava a basket in Ucraina, che è fuggito da Kiev e che sta cercando un futuro qui magari ancora nel basket.